Militari della Guardia di Finanza di Sansevero e agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia, dopo compresse indagini patrimoniali e accurati accertamenti, hanno eseguito il sequestro del patrimonio del 61enne sanseverese Matteo Notarangelo, soggetto con numerosi precedenti penali e di polizia. Sono stati sequestrati 10 immobili, 2 società con relativi beni aziendali, 7 automezzi e 14 rapporti bancari per un valore di circa un milione di euro, risultati nella disponibilità del soggetto, considerato socialmente pericoloso, con una spiccata dedizione a crimini quali associazione a delinquere finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti, insolvenza fraudolenta, bancarotta e reati tributari. Le indagini eseguite dai finanzieri hanno permesso di accertare l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità del Notarangelo rispetto ai redditi dichiarati da lui e del relativo nucleo familiare. Grazie a tutti.